Lasciamoci insegnare la speranza, quella dell'incontro col Signore, con il bambino che ci ridonerà il sorriso e qualunque sia il deserto delle nostre vite diventerà un giardino fiorito, perché la speranza non delude. Lo ha detto con forza Papa Francesco al termine della Catechesi dell'Udienza Generale tenuta in aula Paolo VI davanti a più di 8.000 fedeli nella quale ha iniziato un nuovo ciclo di riflessioni sul tema della speranza cristiana. Prendendo spunto dall'annuncio di consolazione che il profeta Isaia rivolge al popolo di Israele, il pontefice ha spiegato che Dio consola inviando consolatori come prima Isaia, poi Giovanni il Battista, che chiedono di preparare la via al Signore, aprendosi ai suoi doni e alla sua salvezza. Al popolo che aveva perso tutto si chiede di tornare a Dio e tornare a sperare e sorridere. Quando siamo in difficoltà, ha aggiunto il Papa, non viene il sorriso ed è proprio la speranza che ci insegna a sorridere in quella strada per trovare Dio. Una delle prime cose che accadono alle persone che si staccano da Dio è che sono persone senza sorriso. La vita è spesso un deserto, è difficile camminare dentro della vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come un'autostrada. Basta non perdere mai la speranza, basta continuare a credere, sempre, nonostante tutto. Quando noi ci troviamo davanti a un bambino, forse avremo problemi, tanti problemi lì, tante difficoltà, ma quando ci troviamo davanti a un bambino ci viene da dentro il sorriso, la semplicità, perché ci troviamo davanti alla speranza. Un bambino è una speranza. E così dobbiamo vedere nella vita, in questo cammino, la speranza di trovare Dio, Dio che si è fatto bambino per noi e ci farà sorridere, ci darà tutto. Il mondo di oggi è in crisi di fede, ha concluso Papa Francesco. Si tratta di convertire il cuore a Dio e andare per questa strada per trovarlo. Lui ci aspetta, prendendo esempio dai piccoli del Vangelo, da Maria e i pastori, che sanno continuare a sperare. Al termine dell'udienza il Papa ha ricordato che nei prossimi giorni ricorrono alla giornata mondiale contro la corruzione, che va combattuta cominciando dalla coscienza personale e vigilando sugli ambiti della vita civile, e specialmente su quelli più a rischio, è quella per i diritti umani da promuovere con decisione, perché nessuno sia escluso dall'effettivo riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana.